Allora, questo corso d'inglese è facilissimo, l'ho fatto già due o tre volte. Allora, il professore utilizza un metodo speciale che si chiama metodo full immersion. Sapete che significa? No, no. Significa che tutto quello che fa, tutto quello che dice, lo dobbiamo ripetere uguale uguale. Quest'inglese ce lo impariamo subito, è chiaro. Lui è proprio madre lì. Oh, è arrivato. Oh, è arrivato. Ripetete tutto. Buongiorno, studenti. Buongiorno, studenti. Buongiorno, studenti. Buongiorno, studenti. No, 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 no. Sono un professore. Sono un professore. You are a student. You are a student. No, no, no. I am a teacher. I am a teacher. I am a student. I am a student. It's okay, it's okay, it's okay. Ripetete. Today is Monday. It's okay. Tomorrow. It will be. Tuesday. It's okay. Sì, è ok, è ok, è ok. Vai scrivere in mornato? Sì, è ok? Sì, è ok? Sì, è ok, è ok, è ok. Vai scriverlo in mornato? Vai scriverlo in mornato? Sì, è... Sì, è il giorno? Sì, insomma... Sì, insomma, non qui, ti mettete l'aria! Sì, insomma, io ne ho saprò! Cuore che! criticali! tomorrow sam bez, well be freddy ok sam bez, will be freddy ok hot tomorrow A presto, a presto, a presto! Voi sarai! Tomorra, San V, San V, ve, ve, santa, santa, ssssh. What is this? What is this? This is a book. This is a book. No, no, Grisome. This is a book. A book. A book. A raggio, a raggio. This is a house. This is a house. This is a house. This is a capeta. This is a capeta. Zocche, 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 zocche. Zocche, 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 zocche.